ciao io sono el gasi questo è il podcast di el gasi qui con me regia oggi non c'è chris ma c'è un new entry che diciamo che è uno stagista lo possiamo dire il suo primo giorno da stagista felipe ma è felipe martins giusto felipe cabrao ok perché martins è tua mamma e cabrao ok perfetto quindi felipe cabrao è il nostro stagista oggi della regia però oggi ho in mano io le camere e abbiamo abbiamo ho tutta io la gestione l'ospite lo sapete dalla dalla dall'introduzione lo sapete dalla 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 tamba è il nostro caro dario albini yeah è giusto dario albini perfetto io con i nomi devo devo controllarmi devo devo sempre chiedere se è giusto pure la pronuncia è passata gente che aveva dei cognomi pazzeschi il ragazzo greco di cui parlavamo prima ho aspettato di sentire lui che cosa come si presentava prima di decidere io come mettermi nella testa cognomi particolari il tuo è tranquillo il tuo è tranquillo ma come stai tutto bene oggi è il primo giorno che ci conosciamo ecco esatto che poi forse ci avevamo visti diciamo prima a filancer island ci avevamo incrociato qualche tempo fa esatto però è la prima volta a fare una chiacchiera esatto una chiacchiera un po più un po più estesa sì 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 senti ma da dove vieni tu sei di milano no milano sì sì ah tu sei di milano milanese doc sì sì siamo gli ultimi 5 6 no perché effettivamente cioè è raro adesso trovare un milanese no no infatti ho ricevuto una lettera dal sindaco che mi chiede una volta ogni tanto di andare al museo qui c'è un ultimo milanese fare tipo cose ingestate no scherzo comunque sì è vero siamo siamo sempre meno però è bello perché milano tutto sommato sta facendo tutta questa connessione in cui si mischia con con persone non è un problema eh no esatto te come milanese doc come la vedi sta cosa qua tra l'altro io davanti uno che non è nemmeno italiano quindi io sono io sono brasiliano però mi dicono che ho l'accento milanese quindi e sono anche fiero di essere a milano a me piace tantissimo milano guarda c'era non ricordo più chi l'aveva detto ma sostanzialmente gli dicevano che essere milanese non era una questione di nascita ma di sposare lo spirito milanese allora sono milanese entri nelle vibre della città ti senti e milano senti che è in te basta sei milanese tu come la vivi sta cosa qua comunque milano è stata un po non so invasa però è stata trasformata sì sì certo è trasformata c'è tanto ci sono tante persone di tanti paesi o comunque i milanesi come te sono difficili a trovare veramente ma è giusto che sia così è una città e nella sua natura cioè se fosse uguale a se stessa quelle stesse persone vorrebbe dire che non c'è crescita che non c'è dinamismo se ci sono tante persone vuol dire che c'è un'attrazione che c'è dell'interesse e tutto quello che venga fuori alla fine è sempre potenziale ricchezza quindi per fortuna cioè è una buona cosa sia per milano che per che per la crescita di milano per il futuro benvenga è questo questo secondo me è molto molto bello è quasi come londra londra è una città di più è super internazionale che però si è mantenuta un po la l'idea di essere inglese o comunque essere di londra cioè chi va a londra diventa un londinese infatti loro hanno penso che sia ancora in carica il primo sindaco musulmano ah sì e caspita tanta roba cioè tu pensa avere un sindaco musulmano qui in italia è ancora una roba che ci farebbe stranissimo e invece londra per farti capire quanto sono per certi versi avanti in questa integrazione hanno un sindaco musulmano in un paese che sostanzialmente è di tradizione cristiana sì 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 fantastica questa cosa è questa è una cosa una cosa strana non lo sapevo questa cosa qui non lo sapevo effettivamente quindi sindaco londinese musulmano questa è una cosa meravigliosa meravigliosa tra l'altro non so se poi lui ha portato ha portato qualcosa della cultura musulmana questo non posso dire bisognerebbe chiedere a un londinese ok non c'è stato magari era più londinese di tutti gli altri più filo inglese mentalmente però sicuramente sai quanto meno per tradizione quanto meno per dna quanto meno per la famiglia da cui è venuto magari semplicemente come approccio avrà portato qualcosa oppure basta l'idea del pensare abbiamo avuto un sindaco musulmano per per aprire un nuovo capitolo tu che dici un sindaco musulmano a milano la vedo dura non è così open mind milano forse abbiamo ancora un po di strada da fare no però abbiamo divagato sulle città ma milanese doc ma tu sei un imprenditore sì lo definisci così ci sta sono sono un freelance imprenditore sostanzialmente e come freelance tu ti occupi di design comunicazione strategica comunicazione strategica sì che sono anni che cerco di capire esattamente poi un designer non sa mai cosa farò perché faccio poi di questo no la mia comunicazione strategica e cosa cosa consiste praticamente è il passaggio di congiunzione tra la comunicazione per cui fare design e il marketing ok sono sempre due mondi che sono sempre collegati l'uno con l'altro ma che tante volte non si parlano come un musulmano è un cristiano non fanno parte della stessa struttura ma e nello specifico ho un'agenzia prima studio agenzia che fa il flusso che serve per aumentare il fatturato delle pmi per cui prima strategia quindi branding e strategia digitale subito dopo la creazione degli asset digitali sito interno sostanzialmente design e la terza parte il digital marketing che serve per portare traffico su sito internet ok questo è un due tre le tre cose che facciamo quindi preciso quello dopo di che abitano i lavori particolari eccetera in cui cos'è stato due anni fa abbiamo fatto l'ultimo progetto di packaging ok roba packaging non me lo chiedevano la 64 mamma mia bellissimo però quella è la specializzazione si è molto interessante perché poi tu prendi il cliente e gli dai tutta una parte di comunicazione di cui lui ha effettivamente bisogno cioè lo segui da a 360 gradi e la parte di comunicazione se facessi soltanto la parte di design non sarebbe veramente sufficiente per quello che gli serve perché lui ha bisogno di avere qualcuno che il design glielo traduce esatto dal bisogno perché il design è una risposta no e quindi se che è un errore che tante volte i designer fanno no loro aspettano le risposte dal cliente ma il cliente non le sa perché non è il suo lavoro ed è normale che sa cos'è per cui tu quello che devi fare è uscire dal tuo ruolo di designer capire veramente quale bisogno del tuo cliente che magari non è quello che vorresti far tu e risolvere veramente quel problema lì con il design esatto e lì c'è la parte strategica c'è la parte di collegamento con il marketing e con la visione imprenditoriale se mi sembra di sentire chris voss no è effettivamente effettivamente sei un guru di di questa roba qua perché seguo seguo le storie i post che metti e sono sono super istruttivi per un freelance no quindi il seguire il cliente a 360 gradi e comunque gli dai quello che di cui lui ha bisogno c'è nella parte di comunicazione che è la cosa fondamentale perché un cliente dovrebbe separarsi dal suo denaro per far fare del design a qualcuno tutti noi creativi io mi ci metto dentro perché di distrazione sono un creativo poi dopo ho fatto tutta la rivoluzione con la parte imprenditoriale eccetera e tutti noi creativi c'è un po questa idea dell'avere i clienti quasi come dei mecenati no amano la nostra arte la nostra creatività e ci pagano cazzo no non è così cioè non è pagano perché siamo in un'industria perché gli portiamo un cambiamento di fatto banalmente sì perché ho sentito da una persona una volta effettivamente il designer non è un artista no cioè il designer è una professione che che poi si deve cioè devi risolvere il problema al cliente secondo la prima cioè prima di tutto dovrebbe essere considerato dovrebbe considerarsi un risolutore di problemi e poi se vogliamo buttarci sulla parte artistica secondo me il massimo che si può spingere è la definizione di arte applicata ok che è quella che secondo me è più corretta per dire per parlare di illustrazione no c'è una parte artistica sì ma è applicata è applicata a una funzione a un obiettivo a una strategia se tu fai un'illustrazione di libri per bambini non fai semplicemente per trasmettere magia ma lo fai perché devi raccontare qualche cosa c'è un'applicazione c'è un problema da risolvere tra l'altro io prima ho detto chris vos ma era chris du ah la grande era chris du era quello americano il canale il canale youtube cioè era chris du non chris vos chris vos è un altro che parla di negoziazione negoziazione esatto ho la pubblicità su masterclass che dice sempre chris vos a tutte le parti ok ho fatto l'ho fatto bello molto bello molto bello non so in quale momento devo negoziare con un rapinatore con un cliente quello serve sì infatti la fattura non pagata che fischi subito fattura non pagata ah ok non pagata molto bene testa di cuoio negoziamo entriamo basterebbe solo fare questo in teoria a posto non ci vuoi pagare va bene facciamo i 3 swat no è solo per correzione però è molto interessante perché molte volte capita che il cliente ti dica ah ho bisogno del design sì ma tu fai anche un sito e quindi capisci che non ha bisogno solo di della parte del design non ha solo bisogno della parte visiva ma ha bisogno di nella pratica di tutto sì che poi guarda c'è c'è ancora una cosa più profonda da scavare ed è che tutti quanti noi esseri umani compriamo per un solo motivo che è la trasformazione per cui è passare da uno stato attuale in cui sentiamo di avere una mancanza un dolore una sofferenza che può essere aver sete o voler essere qualcosa di più o voler avere più fatturato dipende a uno stato dove tu hai colmato questa mancanza e se tu ci pensi quando uno compra una bottiglietta d'acqua è per quello non ti interessa l'acqua che compri perché è uno stato di sofferenza leggero cioè sete compri l'acqua e quando si compra qualche cosa un telefono o altro è sempre per passare da uno stato con l'altro no se io fossi senza il telefono probabilmente sarai nello stato di sofferenza perché riesco a starmi dietro al lavoro o non posso whatsappare con le mie famiglie con la mia ragazza con gli amici e quindi è uno stato di sofferenza e allora ti trasformi con un oggetto ma non è questo è il mezzo è stessa cosa per un designer al cliente e questa qui è una verità durissima che i designer devono sapere per cui preparatevi cari designer sedetevi prendete un bicchiere d'acqua al cliente non gli frega niente né di te né di quello che fai né del tuo lavoro non gli frega assolutamente niente questo questo deve essere chiaro è una brutta notizia è una brutta notizia ed è vera non gli interessa niente gli interessa dove li puoi portare per cui un designer è una cosa fondamentale che comprenda perché gli permette di comunicare bene se io vado da un cliente e gli dico io faccio web design o faccio motion o faccio sound o l'istazione non gli interessa perché parlo di me stesso se invece gli dico faccio web design e quindi ti permetto di aumentare il fatturato o faccio motion e quindi ti permetto di comunicare meglio la cosa particolare della tua azienda della tua idea eccetera eccetera allora sì che gli interessa sì perché ti presenti come tramite noi siamo sostanzialmente di caronti dei traghettatori da una parte con l'altra noi facciamo questo lo dobbiamo capire lo dobbiamo capire quando quando ho sentito questo appunto è stato ricercando capendo un attimo come come si fa a fare il professionista cioè non sono più nel ruolo da designer in qui devo creare fare cose carine basta ma devo effettivamente portare il cliente a una risoluzione del suo problema e deve funzionare cioè non esiste che è bello e basta o deve funzionare deve essere effettivamente funzionale quando ho capito questo ho iniziato a fare veramente ascoltato esatto quando guarda il tuo lavoro non più guardando è bello o è brutto ma cambiando paradigma e dicendo funziona o non funziona questa è la domanda che deve farsi ogni designer non sei bello ma se funziona esatto tutta la parte estetica diventa da secondaria i designer bravi sono quelli che ti mettono forma e funzioni insieme per cui una cosa bella che funziona che la cosa più difficile in assoluto ma la cosa fondamentale prima di tutto è che funzioni sì 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 quindi se volete fare arte andate prendete un quadro dipingete lo esponete da qualche parte poi pure lì c'è un'industria è perché chi ti paga i galleristi quindi come fai per convincerli gira che ti rigira devi avere a che fare con qualcuno che poi è il bello della comunicazione non è mai una cosa fatta solo per noi stessi ma c'è sempre uno spettatore segreto che è la futura persona che vedrà quello che fai che tu sia un artista o un designer c'è sempre un pubblico è esatto esatto devi sempre confrontarti con qualcuno la cosa che parlo per me anche che uno deve capire all'inizio è che tu dovrai sempre rapportarti con qualcuno qualcuno dovrà sempre mettere una parola su quello che fai perché effettivamente è così che gira il mondo cioè non puoi fare le cose da solo se no che senso ha esatto c'è qualcosa nel buio della tua stanzetta che può andare bene cioè può essere una sessione di psicoterapia ti metti lì e fai le cose che ti fanno star bene ma appena le porti fuori dalla tua stanzetta c'è un pubblico e quindi migliori e capisci e diventi più bravo nel momento in cui lo ascolti cioè difficile questo è un designer difficile perché è la sua arte no ti dicono fai il logo più piccolo o cambia colore si sente ferito esatto esatto invece no il design lo sappiamo bene è un processo iterativo cioè dove più stimoli ci metti dentro come milano no più diversità specialmente se di qualità ci metti dentro come stimoli come feedback più design migliora esatto sì non nel senso pratico c'è less is more però cioè più della parte comunicativa intendi sì esatto perché poi dopo uno può cioè less is more secondo me è molto figo come frase ma sul design si applica e non si applica nel senso che ti toglie le cose che sono superflue esatto però per esempio se noi avessimo portato avanti il less is more sempre non ci sarebbe per dire l'arte bizantina o l'arte araba sì 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 che è more cioè è tutto quanto more o il barocco addio è andato via pure quello o il liberty per cui sì e no perché tante volte la parte estetica anche se è superficiale è comunicazione ti racconta qualche cosa ci dà sempre delle sensazioni less is more funziona se disegni per apple se fai roba per forza no è interessante interessante come cosa ma quindi il la parte di co-working ora è diventata obsoleta cioè non curi più non 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 gestisci più quella parte lì o hai lasciato come funziona adesso allora con il co-working ho lasciato la gestione a luglio per cui ho fatto praticamente dieci anni con il co-working è stato super bello è stato un progetto meraviglioso che è andato super bene e a un certo punto però mi sono mi sono detto che il senso cioè il perché avevo quel co-working lì era per avere una community e un impatto sulle persone no per cui un impatto su freelance e un co-working può avere un impatto su 10 20 persone che sono qui attorno sì e a quel punto lì ho pensato che probabilmente anche se era stato un po difficile chiudere una cosa che andava bene e a cui ero super legato la cosa più giusta era liberare del tempo per poter avere più impatto e quindi ho tramutato il tempo che avevo sul co-working con il tempo per fare il mentore per freelance perché lì l'impatto può essere non più soltanto perché lavori meglio perché c'è una scrivania un posto bello a milano ma si può impattare su tutto quanto su tutto quello che serve per un freelance per crescere è un impatto maggiore cioè vorrei raggiungere esponenziale esatto cioè la sensazione di aver aiutato comunque dato una mano ai professionisti è molto più esponenziale sì 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 è interessante così e come come sta andando questo processo sta andando super bene super bene sta andando anche perché da un lato probabilmente c'è proprio un bisogno perché non c'è nessuno che ti insegna a fare il freelance effettivamente uno parte e dice perfetto sei un freelance e il freelance sono un po vittima di questa illusione dove pensano che per poter avere clienti per poter funzionare professionalmente devi essere bravo in quello che fai no è la conoscenza tecnica sembravo motion sembravo digital marketer e vi dicendo invece no quello lì è il pezzettino in alto della piramide ma poi dopo c'è tutta la piramide sotto che è una piramide fatta di mindset di produttività di gestione finanziaria di acquisizione clienti per cui di branding e di marketing e senza quella parte lì tu puoi essere un un freelance tecnicamente fenomenale ma rischi di essere completamente sotto potenziale perché nessuno ti trova e ti apprezza esatto un piccolo imprenditore in sostanza di essere un piccolo imprenditore una piccola azienda cioè anche nella parte di produzione se sei da solo e non collabori devi fare tutto tu cioè quindi tu dai che tipo di mezzi offri a queste alle persone che ti seguono per effettivamente essere un buon freelance che quale qual è la caratteristica di un buon freelance ecco caratteristica di un buon freelance prima di tutto è il mindset ok quello è la parte fondamentale della parte più difficile da far capire perché sembra apparentemente astratta cioè il mindset cos'è cioè se fosse cioè sembra una roba new age già pensiamo tutto quanto forte forte che arriva il cliente e puffa il cliente no il mindset è come pensi come pensi è come agisci ecco perché è così potente esatto per cui fai certe scelte soltanto perché tu sei convinto credi in certe cose se tu pensi di mettiamo caso cioè esempio sportivo qualsiasi pensiamo all'impatto del mindset sulla carriera di un ragazzo di un atleta eccetera se non ci fosse stato qualcuno che credeva nello sport o nel poter diventare bravo nel fare sport non ci sarebbe stato nessuno a portare messi cristiano ronaldo jacobs agli allenamenti perché perché era aperta di tempo e se non ci fosse stato qualcuno lui o la sua famiglia che ci credevano non gli avrebbero mai detto spingi fai sacrifici credi di più che tu ci possa arrivare sarebbe stata una cosa limitante per cui se pensavi sì ma non potrò mai diventare il più forte al mondo a quel punto lì è automatico che non diventi mai e per il freelance è la stessa cosa se tu non pensi di essere di poter vincere come freelance di poter trovare il tuo posto di poter avere un successo professionale che poi è anche un successo umano se non vedi le opportunità non arriveranno mai quindi come pensi è la parte fondamentale e poi dopo dopo che pensi bene tutta la parte operativa il branding il marketing la parte di produttività la gestione economica finanziaria viene di conseguenza quella tecnica e quale deve essere il mindset di un freelance secondo te allora prima di tutto avere una consapevolezza shock e siamo due ed è quello di pensare che è tutta quanta colpa tua o meglio è tutta quanta responsabile responsabilità esatto no perché colpa colpa è un bastone sulla mentoship per creare un po di shock ma in realtà responsabilità è la cosa corretta cioè è pensare che tutto quello che otterrai domani dipende unicamente da quello che fai oggi e quindi se domani ottieni o non ottieni è responsabilità tua e questo cambia completamente come poi approcci ogni singola cosa perché questo ti porta nel momento in cui interiorizzi questo concetto a valutare ogni singola azione che fai non sul beneficio momentaneo ma sull'effetto sul lungo periodo ok questo è quello che ti cambia la mentalità è un po come dire adesso c'ho fame beneficio momentaneo mi mangio un gelato o mi scofano un sacco di mcdonald no sto benissimo ora se lo moltiplico per 10 anni mi faccio un sacco di male esatto se invece mi mangio un insalatina un hamburgerino eccetera eccetera sono meno soddisfatto probabilmente ma se lo faccio per 10 anni dove sono se vado per 10 anni in palestra dove sono se per 10 anni con meno leggo un libro esatto è quello e questa è la prima cosa per un freelance ok avere avere la consapevolezza di tutte le responsabilità sono tue ah il cliente non mi cerca non ho clienti un cavolo tu hai completamente responsabilità se no torno in azienda e dà la responsabilità a questa responsabilità al tuo datore di lavoro altrimenti no è interessante come cosa quindi tu dici che secondo te il freelance si nasce oppure ci si diventa secondo te tutte e due tutte e due ma principalmente si diventa seguendo i tuoi video certo è l'unico modo no no scherzo penso che ci sono due componenti a parte cioè prima di tutto il 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 freelancing non è per tutti nel senso che ci deve essere tagliato devi avere un po di pelo sullo stomaco all'inizio perché è difficile devi avere un po quella voglia di fare le cose più difficili di essere un po impenditore devi non avere paura di essere da solo per cui non è per tutti e va benissimo anche perché il freelance come carriera creativa uno pensa che il freelance per il 90 per cento del tempo fa design no per il 50 per cento se va bene l'altro è gestione gestione per cui se uno vuol fare proprio il piccolo artigiano è meglio che valentino che faccia il dipendente eccetera che va benissimo che va benissimo che va stra bene assolutamente è una questione poi di ricerca personale tramite il lavoro super bene e quindi un po di un po di attitudine ce l'hai all'inizio però poi è una cosa che impari hai un potenziale no cioè è una cosa che senti che vedi che vorresti considera che poi essere in freelance nella parte più profonda vera e avere un'aspirazione alla libertà a poter diventare felice come essere umano cioè a vivere secondo i tuoi termini secondo la tua scala di valori essere padrone del tuo tempo si costruisci costruisci il tuo ambito lavorativo esatto puoi dire molti freelance ad esempio questo è stato il mio caso sono passato a in varie agenzie in alcuni posti dove lavoravo per altre persone e avevo la mia mansione in alcuni momenti non non per esaltarmi in alcuni momenti mi sono sentito di dire cavolo questo l'avrei fatto meglio ma non è una è stata una presunzione per dire potevo anch'io gestire questo budget potevo anch'io gestire questo lavoro senza che magari nei tempi morti non facevo assolutamente niente quindi io dicevo cavolo perché sono qui perché sono qui dentro io ho iniziato il processo di capire che effettivamente un po il freelance lo potevo fare esatto cioè il processo di di è possibile è possibile è possibile magari uscire da quella zona e dire aspetta ma se io prendo il cliente e propongo qualcosa che avrei proposto meglio io perché risolveva meglio il problema perché non so se lo sai ma in alcune agenzie ci sono dei personaggi messi lì a caso mi è capitato mi è capitato di lavorare in agenzie dove il direttore creativo non sapeva cos'era photoshop e lì non benissimo non benissimo quindi non è mia presunzione di dire io sono bravo figo no è semplicemente dire questo è stato messo qui a caso potevo parlare con il cliente io potevo dirgli cioè senza questo tramite che poteva avere un impatto maggiore e avere un impatto maggiore infatti guarda una delle cose cioè la risposta base quando mi chiedono come si fa per diventare freelance è trovati un lavoro fisso perché questo ti permette di acquisire quella consapevolezza e di acquisire poi tutta una serie di skill che sono sia di gestione con le persone ma specialmente ti permette di comprendere come funziona il tuo lavoro non semplicemente inquadrato in quello che sai ma perché lo vedi nella sua accezione più ampia certo e quindi quello ti permette proprio di fare questo passaggio di consapevolezza e di rispetto ma quindi se metto questo più questo più questo più questo funziona potrei farlo io effettivamente e quando sei pronto fai il salto quella è la cosa più saggia non partire tipo banzai a free dance delle facciate mortali no semplice ma allo stesso tempo non non come si può dire non è ovvia questa cosa qui è controintuitivo cioè non è intuitivo cioè io mi metto in un'azienda e capisco il perché di quei ruoli eccetera e se effettivamente capisco che quella cosa lì la posso gestire io allora sei pronto per vedi è il mindset che dicevamo prima sì se uno entra in azienda con quel mindset lì e con una visione strategica a quel punto lì ogni esperienza che fa non è un'esperienza a random che si perde via ma è un'esperienza che concorre a portarti dove vuoi uno può dire io tra due anni tre anni cinque il mio sogno è fare freelance e lavorare da un ciringhito in messico perfetto come faccio per ottenerlo e a quel punto lì cacchio mi mancano certe skill vado in azienda soli un anno sei mesi due anni le imparo e poi pian pianino passo oltre sì ma secondo te qual è il tuo parere il fatto di pensare al freelance come più soldi o più libertà è un concetto giusto oppure c'è un altro mindset perché molte persone si approcciano al fatto di essere più liberi al fatto di guadagnare più soldi perché fatturi ma effettivamente è questo il concetto che uno deve avere quando fa il freelance oppure è qualcos'altro secondo me questi sono due mezzi no cioè essere più libero avere più soldi se uno ci pensa uno vuole avere più libero cioè vuole avere più libertà o avere più soldi per no non è un obiettivo che finisce è un obiettivo mezzo i soldi sono un obiettivo che ti porta qualcosa d'altro è uno strumento è uno strumento no e quindi libertà e soldi uno pensa sempre che sono delle cose importanti poi li ottiene si guarda attorno e dice e quindi ci faccio non era ok si utile però beh per cui per un freelance la parte più importante è sostanzialmente capire che vita vuoi avere cioè è questo il bello è stabilire il tuo sistema di valori e cercare di costruirti una vita secondo i tuoi termini sì questa è un'azienda che ci vuole assumere secondo me sì questa è felice me lo passi tutto in diretta e sei pronto che poi io sono quello che ospita la gente e tiene il telefono acceso giusto va bene dai c'ho la scusa no non c'ho scusa è tutta colpa mia è il mio sio è il tuo ragazzo è il mio sio bravo è il mio sio poi ne prendo sicuramente no dicevamo comunque l'obiettivo di vita maggiore deve essere un altro cioè deve essere avere il tuo personale per poi trovare il tuo poi dopo è una cosa che scopi stai facendo perché uno non è che nasce dicendo ah io sogno di essere così o di vivere in quella maniera lì è una strada che ti costruisci stai facendo però se ti orienti sentendo il profumo di quello che senti profondamente che ti fa star bene che è giusto per te poi dopo diventa sempre più chiaro e poi uno ci mette la definizione per uno può essere star più tempo all'aria aperta oppure avere un sacco di soldi per poter comprare un palazzo chissà dove cioè sì 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 è relativo no sì 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 esatto che poi però quando fai il freelance l'obiettivo principale non deve essere solo la tua libertà i tuoi soldi ma risolvere il problema esatto fare un freelance essere un freelance bravo vuol dire che tu sei in un accordata e un win win con il tuo cliente perché se tu fai vincere lui a quel punto di vista vince pure tu perché ti permette poi di crescere nella tua carriera c'è sempre questa concezione in cui il freelance si sente o di portare via soldi al cliente perché ha una bassa autostima professionale oppure cerca di sfruttarlo mi faccio pagare poi se risolvo se non risolvo chi se ne frega invece quello che funziona bene proprio quando comprendi profondamente il problema di un tuo cliente e lo risolvi è un win win perché l'hai portato dove vuole cioè hai avuto un impatto positivo e questa cosa permette anche a te di andare dove vuoi beh questo è un'ottima risorsa per chi per chi poi vuole manderò a tutti quelli che vogliono fare il freelance questo video qui perché clippina via sì 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 ma soprattutto seguite poi la pagina la pagina di Dario sito web per avere più info sì 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 poi poi le facciamo vedere le facciamo vedere alla fine è stata una piccola virgola ma super ok c'è questa cosa qui io già mi sto lavorando come freelance come sto già pensando ad organizzare la mia vita in questo senso ma un obiettivo di vita principale personale tu ce l'hai tu hai il tuo obiettivo se vuoi raccontarlo o no ti dico il primo che mi è venuto in mente che è quello che mi rivedo tra i due tre ogni mattina è quello nell'arco di diciamo 24 mesi due anni tre anni portare a vedere l'aurora boreale i miei figli wow andare lì con i miei figli con la mia ragazza con il suo figlio eccetera eccetera e portare tutti i piccoli a fargli fare quell'esperienza lì spettacolare spettacolare perché secondo me io non ho mai visto tu neanche io neanche tu andare tutti insieme per la prima volta sarà per la prima volta tutti insieme anch'io mai vista prima neanche lei i miei figli hanno tre e due anni per cui per forza che ne l'hanno vista a meno che non mi nasconda qualcosa e quindi anche tre anni però sì sì già vista posso col passaporto e portare a fargli fare questa cosa qui sì questa cosa dell'aurora boreale io ho visto dei video di alcuni ragazzi che fanno i nomadi digitali vanno in giro ho visto che in alcuni casi può essere deludente devi scegliere il posto giusto Dario ok devi scegliere il posto giusto perché in alcuni posti è più si vede di meno un po' sberita esatto sì 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 prima fai un po' di ricerca c'hai due anni esatto ho due o tre anni perfetto mi spacco di Google esatto esatto no è super è super perché il fatto di avere un obiettivo ti permette poi di conseguenza far segre tutto il resto focalizzare tutto il resto a pro di quell'obiettivo lì io ad esempio con mio obiettivo ho degli obiettivi molto più a lungo termine forse più infiniti che a lungo termine cioè io voglio più risorse per ricercare più conoscenza e essere più a scoprire di più sul mondo scoprire il mondo attraverso gli occhi della conoscenza per questo ho bisogno di più risorse e più tempo quindi più risorse ho più tempo ho per fare ricerca e scoprire il mondo questa è una cosa che ho capito che mi dava tanta soddisfazione stiamo parlando di cose personali se vuoi parlare di questo mi dava tanta soddisfazione sapere che come funziona il mondo come funziona la politica come funziona la terra c'è bisogno di tempo quindi per avere più tempo ho bisogno di più risorse quindi lavoro in pro di scoprire il mondo che poi ho bisogno di tutte le risorse hai detto una roba che mi risuona tantissimo se ti dovessi descrivere come mi immagino come sogno come ho l'obiettivo che sia la mia giornata professionale da ora ai prossimi cinque anni mettiamo caso è quello di avere diciamo metà del tempo impegnato a studiare e a capire e metà del tempo impegnato a raccontare agli altri quello che ho capito è bellissimo è meraviglioso cioè è ottenere qualche cosa che tu dici personalmente wow e poi far sì che questa cosa qui possa avere un impatto sugli altri questo è per me il massimo della vita e vedere che poi questa cosa qui impatta che è il motivo per cui ho scelto di fare il mentor oppure perché insegno ed è è come se sentissi che quello che è stata la tua esperienza sulla terra per certi versi si completa nel senso che hai imparato qualche cosa e non rimane lì chiusa dentro di te ma continua il giro sì e non l'ho ancora messa a fuoco completamente però mi sembra che sia la cosa giusta da fare nel corso della vita sì ma secondo me tu avrai molto successo in quello che fai e ti dico perché senza non è lechinaggio senza senza un perché ti dico proprio perché ho intervistato un ragazzo che è King Ash lo salutiamo Bella King è uno youtuber che fa video scherza in giro prende in giro la gente oppure si prende in giro da solo Felipe lo conosce King Ash l'ho intervistato e ho capito una cosa a parte che studia medicina per cui tutto quello che non ti aspetti poli opposti cioè ed è una persona fantastica molto molto intelligente e molto saggio una cosa che ho capito è alla gente piace chi è originale se tu sei originale e fai dei video in cui fai scherzi prank eccetera piace alla gente ok perché perché sei originale non perché fai prank non perché fai perché sei originale e questa cosa qua Dario secondo me ti porta ad avere originalità cioè il ricercare la conoscenza ed essere questo ti dà ti dà un'originalità che piace alle persone se tu fai dei progetti che girano intorno a questo hai successo perché alle persone piace le persone originali penso che le persone una cosa che ho capito all'alba dei miei 38 anni no no dai ti ho ridotti molto di me ho la carta di vittà qua 29-30 29-30 38 te lo giuro non so non faccio l'echinaggio gratis io è che gli esseri umani sono affascinati dagli altri esseri umani sì è vero noi siamo affascinati proprio dagli altri individui e quello che poi che poi dopo finisce anche per essere uno dei principi fondamentali del branding è che nessuno può essere migliore di te a essere te stesso esatto e quindi più riesci ad approfondire a diventare più te stesso e ad approfondire la profondità di quello che significa essere te stesso più sei sempre unico no infatti ho visto che per esempio mi permette di essere un professionista migliore studiare o seguire la mia curiosità quando non c'entra niente quella professione vero vero questo è fantastico perché risuona qualche cosa e poi sono tutte cose che ti riportano dentro cioè un buon designer sa che tutto quello che studia tutto quello che diventa finisce nel suo lavoro sì quindi se vai se sei appassionato di cercopitecchi dorati e sai tutto della vita di cercopitecchi o sei un appassionato di storia di cartagine o altro in qualche maniera è una cosa che si sedimenta e che ti rende unico ti dico cosa stavo guardando a pranzo per mangiare guardavo un video su youtube come funziona il turbo della macchina tu dici no Gabri si guarda i tutorial di Ben Marriott per per seguire per imparare a fare motion no stavo guardando come funziona il turbo adesso ti dico il mio è peggio pure peggio sto guardando un video sulla storia geopolitica dell'antica Grecia è molto più corto cioè una roba del tipo tutto il sistema eccetera eccetera che mi dice ma stai mangiando ma stai sorelo ma guardati non so però caspita io sulla parte lì ero impazzito e però sono quelle cose lì che in qualche maniera ti fanno funzionare il cervello e ti danno ricchezza umana e poi un funzionamento del cervello che è qualcosa di particolare di tuo no questo questo è fantastico perché è quello che stavi dicendo tu più noi come designer dobbiamo espandere la nostra conoscenza sapere più cose poi prima fare design era proprio una cosa meticolosa cioè arrivava dovevi studiare il cliente il progetto e d'ogni cosa aveva un senso perché avevi ricercato fatto wikipedia e cose così e tiravi fuori una roba un senso specifico dovrebbe essere così però noi siamo sempre più veloci e ti dimentichiamo di quei dettagli lì però effettivamente sapere più cose scoprire più cose ti espande la mente cambia completamente tutto ma infatti immagino immagino che tu se oggi tu sei qua nel podcast è perché hai detto vabbè vediamo conosciamo un po' vediamo vediamo un po' come funziona come gira e spero ti stia piacendo assolutamente anzi grazie per l'invito no è interessante quindi oltre all'aspetto di design pratico e comunque consulenza per il freelance tu hai anche altri altri ambiti che ti piace conoscere troppi dimmi un altro così uno così sempre su youtube te ne dico poi dopo fammi dire uno serio perché vai 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 infatti io ho detto uno io su youtube impazzisco per due cose quelli che da un pezzo di ferro brutto fanno un coltello vado via di testa vado via di testa video di mezz'ora con le scintille vado via di testa e poi il trend che c'è ora degli indianini che fanno le piscine scavando ti devo dire una brutta notizia oh no non è vero è tutto finto è tutto finto ci sono le pale fa niente fa niente figo è come il papo natale ci credo lo stesso no ci sono altri meticolosi che hanno studiato la buca era troppo precisa hanno detto no non è stata è tutto finto però cioè si mettono lì a fare piscine in mezzo a nulla in indonesia tipo come come beautiful no sai che è finto guardi lo stesso per me è il mio beautiful quello sì il fatto che tu creda che sia un po' vero però effettivamente si mettono lì una mezz'ora a far vedere che sono scavati sudati sono sudati e poi poi c'è uno con la pistolettina sì 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 cioè tu pensa che su internet trovi di tutto e c'è gente che si va lì a studiare le ore in cui uno dovrebbe stare a scavare con le mani vedi invece no non è vero perché dovrebbe stare 24 giorni a scavare invece vabbè effettivamente internet è bello anche per questo soprattutto per questo figa figa interessante il tuo la tua cronologia di youtube poi ci scriviamo video su quelli di coltare dai greci adesso ad esempio attendevo tantissimo il lancio di James Webb che è il telescopio spaziale che dovrebbe conoscere le origini dell'universo o vedere più lontano e adesso stanno uscendo alcune immagini adesso c'è le immagini di calibrazione per chi non conoscesse il James Webb sarà poi il sostituto di Hubble quelle immagini spettacolari delle galassie eccetera erano di Hubble dovremmo fare delle immagini molto molto più belle e più da lontano con James Webb magari scopriamo che siamo dentro una simulazione di James Webb ci dirà che però queste cose effettivamente effettivamente sono belle sono belle per per ricercare per scoprire e per avere più info magari se dobbiamo ti dico una cosa buffa è solitamente per addormentarmi o leggo un libro e va bene normale oppure ho i momenti in cui leggo delle pagine a random di wikipedia veramente è una delle cose che sono i miei rituali di goduria wikipedia pagina random e ti capitano le robe più assurde paesi sperduti formaggi strani specie di plankton assurde ma che figata che è perfetto per chi mi incuriosisce ma a un certo punto mi fa calare la palpe per cui se mi addormento su plankton chi se ne frega e fare la pagina random di wikipedia prima di addormentarmi o dei piaceri della mia vita ma che figata cioè tu stai vivendo un po' immagino poi dimmi tu stai vivendo un po' quello che avevi in mente cioè volevi più spazio per ricercare sì interessante adotterò anch'io questo metodo prima di dormire ma com'è che funziona leggi pagine a casa di wikipedia le ricerchi tu allora ci sono due strategie di cosa stiamo parlando sono cose serie parliamone bene allora uno c'è la pagina completamente random che c'è la funzione c'è c'è la pagina random soltanto che ti possono capitare delle cose che anche le malattie non hai voglia di leggere il codice postale dell'ohio ok va bene e poi dopo c'è la tua strategia invece dove parti da degli argomenti che ti interessano magari hai sentito una notizia eccetera eccetera e poi vai con i collegamenti ipertestuali e lì scavi 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 e ti tiri fuori delle chicche clamorose tipo su wikipedia sull'app ho aperto 46 tab cioè che figata tramite il telefono tramite il telefono sì sì in modalità scura perché così niente luce blu ti addormenti bene e c'è la tua robina lì goduria che figata che figata adotterò anche io sta cosa fatelo fatelo no perché poi sono quelle cose che scopri mentre sei lì in un podcast le racconti esatto no la conoscenza secondo me è una di quelle cose che è infinita cioè ci sono tante cose da scoprire tante cose su cui effettivamente andare a conoscere ed è figo effettivamente è figo ma ad esempio qui abbiamo un ragazzo molto giovane che ci sta sta imparando a fare la regia eccetera ma che definiresti che definizione daresti ad un freelance che cos'è un freelance abbiamo detto cosa dovrebbe fare un freelance ma effettivamente Feli tu sai cos'è un freelance ma che è un freelance ma se magna diciamo la prima cosa che non deve essere che spero che i freelance pian pianino smettano di definirsi così un freelance non è una partita iva è una roba che mi mette una tristezza il freelance non è una partita iva io sono una partita iva è una partita iva sì tecnicamente sì ma se si definisce come un oggetto fiscale è una roba di una tristezza è super limitante quindi Feli il freelance non è non è una partita iva non è un fiscale ma non dirlo è un po' come dire se Ferrari si definisce sono un SRL cioè un SPA una holding quello che è esatto dove è la magia esatto dove sei tu sono un SRL tristissimo un freelance per me è un conquistatore del mondo del suo mondo un conquistatore del mondo è uno che tramite la propria ricerca personale tramite l'ottenimento di successo professionale diventa un essere umano più libero soddisfatto e felice ok costruendosi il suo modello professionale ok quindi a differenza perché magari uno lo può confondere con un imprenditore ok ok quindi magari uno dice freelance fai tutte le cose è un piccolo imprenditore invece no facciamo sì allora diamo una definizione ancora più tecnica un freelance è un libro professionista per cui è un professionista che lavora da solo sul mercato facendo il lavoro per cui un freelance è un artigiano un motion designer fa motion un illustratore fa illustrazione uno spadaio del medioevo faceva le spade esatto che non è un imprenditore c'ha la mentalità dell'imprenditore esatto ma l'imprenditore non è più un artigiano l'imprenditore è uno che ha una visione prima di tutto ed ha una direzione per cui Elon Musk non è che costruisce i ratti esatto ha la visione e metti in piedi il sistema per per cui la differenza che c'è tra un imprenditore e un freelance è proprio questa secondo me è la parte operativa strettamente dove se tu ho fatto un post oggi su Instagram in cui dicevo che il vertice di un freelance ci sono sei livelli da zero vediamolo vediamolo dalla regia ce l'abbiamo la regia fantastica praticamente ci sono sei livelli eccolo praticamente uno parte dalla base il gigger che praticamente è il freelance che fa dei lavoretti guadagna qualche cosa ma non si sostenta ancora per cui è l'inizio della scalata poi sale 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 ci sono tutti i vari livelli e la parte più alta è il super freelance ah ok quindi la parte in blu è il super freelance quella più in alta più blu ci sono tutti cinque fasi intermedie prima del super freelance il super freelance è quel freelance che ha conquistato il gioco per cui ha molto più lavoro di quanto possa processare al cliente di qualità ha controllo sul suo tempo ha la padronanza completa del suo tempo ed è arrivato a vincere il videogioco del freelancing ok a questo punto lui che possibilità o si ferma dice bella vita sono contento prosegue per cui blocca la sua crescita e va in orizzontale oppure ha due modi per scalare o continua a fare l'artigiano per cui diventa il più bravo del mondo cerca di diventare il migliore del suo settore oppure diventa un imprenditore per cui cambia forma e diventa uno che prendiamoci esempio non so lo spadaio del medioevo è diventato il più bravo bottegaio che fa le spade di tutto il mondo a quel punto lì hai due modi per poter crescere o fai meno spade di una qualità eccessa e passi alla storia per essere lo spadaio della storia per chi vuoi fare l'artigiano oppure metti su un'impresa per cui prendi degli aiutanti dei bottegai degli apprendisti per fare più spade per fare più spade e a quel punto lì però tu non fai più lo spadaio fai quello che gestisce e che ha la visione dell'impresa di fare spade e quello è il bivio se prendi questo secondo bivio passi a essere un imprenditore e non più un freelance questo è stata la miglior definizione che ho avuto per separare le due cose chiaramente uno dice è un imprenditore è un piccolo imprenditore no il freelance può essere uno spadaio che fa le spade migliori del mondo e ha tre clienti all'anno e fa pagare le spade un sacco di soldi perché lo può fare o invece può transitare da essere freelance senza essere un imprenditore molto interessante Feli tu che cosa dici potresti fare freelance sembra un po' complicato sembra un po' complicato ma sicuramente hai tempo per capire poi qui abbiamo una figura che te lo sta spiegando benissimo quindi lo vedrai in futuro che cosa vorrai fare però secondo me è anche un'opportunità per fare cose belle poi se ci stai seguendo e sei indeciso tra rimango in ufficio lavoro per il mio capo oppure vado a fare il freelance effettivamente poi scrivi nei commenti e poi Dario anche li commenterà vedrà molto volentieri assolutamente se hai domande poi magari lo riportiamo in una seconda puntata e ti rispondiamo alle tue domande quindi effettivamente l'hai spiegata molto bene e i modi pratici per mettere in pratica come abbiamo detto prima pensa a risolvere problemi e poi cioè non pensare a fare solo le spade e basta ma pensa a risolvere i problemi del cliente quindi se il cliente ha bisogno di tagliare il salame farai un coltello esattamente non arrivi con una labarda così che dici eh che cosa faccio mazzo il gatto con questo esatto ma tu hai anche una parte imprenditoriale vuoi parlarci un po' di com'è essere freelance imprenditore tu hai un po' visto le due cose no? sì 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 ho fatto proprio quel percorso che ti dicevo del partire come grafico come freelance semplice poi pian pianino arrivare a che poi è il passaggio grosso quando esaurisci il tuo tempo perché un freelance e qui c'è un segreto che diciamo sostanzialmente che cos'è un freelance è un trasmutatore di tempo in denaro ok cioè è una macchina in cui tu metti in cui lui mette dentro un'unità di tempo un'ora un giorno eccetera e tira fuori un risultato ok tant'è vero che un freelance se non lavora non guadagna per cui se non mette dentro monetine di tempo in quella macchina lì non viene fuori niente e quindi il rapporto con il tempo per un freelance è fondamentale perché diciamo prima in primo luogo è il mindset che ti permette di sfruttarlo meglio e in secondo luogo è una risorsa che non è scalabile per cui poi il tuo tempo finisce esatto e a quel punto lì 24 ore 24 ore sono quelle per tutte esatto e a quel punto lì quando un freelance ha venduto al meglio tutto il suo tempo lì è il momento in cui si crea la crisi della crescita cosa fai come faccio per vendere meglio aumenti le fee per cui ti fai pagare sempre di più scali sempre vai sempre a un livello più alto del tuo settore bene però poi il tempo finisce finisce sì e quindi quello è il momento in cui uno decide la strada o dell'artigianalità super specializzata quello che dicevamo prima dello spadale che fa soltanto quello oppure scala e quando scali è il momento in cui tu devi andare a fare leva sul tempo degli altri devi comprare il tempo esatto tempo, competenze eccetera eccetera ma sostanzialmente stai prendendo del tempo che lo puoi fare con tanti modi perché per esempio anche fare un video youtube significa comprare il tempo perché tu stai facendo volendo una promozione stai raccontando che sai fare bene un qualche cosa e c'è una macchina c'è un un bot dentro l'internet e ogni volta che uno cerca quell'argomento boom butta fuori quel contenuto anziché essere tu fisicamente che vai da tutte le persone e gli parli è un multiplicatore è una leva per cui il passaggio per me è stato proprio quello di capire tutto quello che erano le aree del mio tempo che potevo delegare e quelle che generavano minor valore perché non tutto può essere delegato e a quel punto lì acquistare tempo da altre persone per cui il mio primo passaggio per passare a livello successivo è stato quello di prendere un assistente fantastico perché quello ti permette poi di togliere tutta la parte di gestione del lavoro dove non si ha veramente un impatto sul tuo cliente cioè non sei veramente lì che dimostri quanto sei potente quanto sei bravo quanto sei d'impatto come professionista è una parte che possono fare tutti quanti che può essere automatizzata e quindi se tu hai raggiunto un livello professionale e spendi tanto tempo in quella parte lì lo stai sprecando esatto e quello è il primo punto in cui potrai scalare e acquisire altro tempo e poi dopo è lo stesso processo che moltiplichi sì detto in parole povere è come l'evoluzione di Goku cioè per essere un freelance super saian poi c'è un livello successivo super saian bla 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 eccetera esatto devi prendere le sfere del drago da altre persone esatto devi prendere altri super saian per fare altre cose e così tu sei diciamo in vetta alla cosa che gestisci e diamo anche il terzo shock ai creativi visto che ormai sono lì con le cose che gli abbiamo detto madonna che ansia che per un freelance creativo per poter scalare a un certo punto un video che ha è quello di delegare anche parte del suo lavoro che è una roba che gli fa giustamente una po' difficile perché tu sai che come fai tu il lavoro lo fa nessuno esatto ed è vero però allo stesso tempo non è così importante sì perché al cliente l'abbiamo detto prima in realtà non gli interessa no che lo fai tu gli interessa dove lo porti il risultato che gli dai quindi se trovi qualcuno che lo fa in maniera diversa da te ma allo stesso tempo porta quel risultato vuol dire che il tuo lavoro è sostituibile e quindi tu puoi fare un lavoro sul tuo ego e dire anche se sono un motion designer pazzesco un illustratore pazzesco un digital marketer pazzesco delego quello che so fare meglio e che so che farei meglio probabilmente della persona a cui lo delego ma è sufficiente sì 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 eh questo è un consiglio interessante devi uscire un po' da quella zona di addio il mio lavoro no non voglio fare fare a qualcun altro a effettivamente vai fai tu pensare all'effetto esatto questa è la differenza esatto esattamente questa è la differenza tra l'altro leggevo in un libro che sto leggendo adesso la differenza tra l'imprenditore effettivamente e le persone i professionisti effettivamente è quella di saper delegare saper gestire e dire ok devi fare questa cosa qui e così deve essere fatta basta esatto non voglio saperne esatto quando passi al imprenditore le due cose fondamentali sono quella che hai detto saper delegare e quindi saper creare anche i processi che servono per poter guidare le persone a cui deleghi uno e due saper scegliere le persone questo è fondamentale sono cose difficilissime difficilissime quella è la cosa più importante sì ma tra l'altro difficilissimo perché una delle cose principali per ad esempio chi ha un'azienda un imprenditore mettiamola così fai colloqui tu fai colloqui vedi le persone uno può essere anche bravo però magari è un cazzone uno è bravissimo però è pigro capisci ci sono tutte queste cose da tener conto spiegaci un po' come scelgo la persona giusta per magari c'è una persona che sta facendo periodi di transizione a imprenditore o a delegare come scelgo la persona giusta guarda ti dico come le scelgo io ed è io parto dal presupposto che le competenze si possono comprare facilmente ok in mindset no quindi cosa vuol dire che se io trovo una persona che ho due persone uno che è un fenomeno bravissimo ma non mi convince sul mindset penso che non sia veramente focalizzato che non voglia lavorare per il bene del cliente che sia pigro o altro e mi trovo uno che è medio ma vedo che ha voglia di spaccare che ha voglia di migliorarsi come dicevi prima di avere più sapere di diventare più bravo dell'1% rispetto al giorno in cui stava prima e di avere un impatto io scelgo tutta la vita il secondo esatto perché le competenze che gli mancano le può acquisire e le acquisisce grazie a quella mentalità lì cioè questo tra due anni questo tra due anni diventa quello lì bravo con il mindset giusto con il mindset giusto esatto effettivamente mentre quello bravo con il mindset sbagliato nella mia esperienza difficilissimo che cambi rimarrà così difficilissimo rimarrà così dopo un po' ti lascia ti lascia con le mani in mano ti fai problemi non funziona bene il lavoro per cui proprio è un casino eh sì quindi scegliere la persona giusta è altrettanto un lavoro sì 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 che deve essere che è fatto da 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 di HR ti dico quando ho scelto la mia prima assistente ho valutato 436 CV oh madonna fatto tipo 60 interazioni e tipo 35 call una cosa simile che storia è stato un lavoro sì 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 mostruoso ma effettivamente sono adesso sono curioso come funziona magari prendo una io anch'io come funziona con l'assistente cioè tutta la parte di calendario di gestione nota prendi nota come funziona lì vedi guarda la cosa più utile è fare un time diary per cui tu prendi per due settimane nota ogni ora di dove spendi il tuo tempo per cui ogni giorno oggi è martedì tipo ogni attività che fai te la segna dalle 8 e mezza alle 9 ho mandato mail dalle 9 alle 9 e un quarto ho cazzeggiato dalle 9 e un quarto alle ho fatto e te la metti lì proprio in maniera più neutra possibile senza giudicare a quel punto lì ti ritrovi con uno spaccato delle due settimane di lavoro poi chiaramente per più tempo lo fai più sei preciso due settimane vanno benone e a quel punto lì li vedi dove spendi il tuo tempo e vedi subito quali sono le attività che sono delegabili e quali no se vedi che il 40% del tuo tempo va nella gestione amministrativa perché devi mandare le fatture che tornano indietro devi solicitare i pagamenti hai subito il blocco ore che puoi passare a un assistente o in automazione se di lavoro fai una cosa per dire perché tanti che fanno video prendono i montatori per quel motivo lì chiaro quella è una parte delegabile la puoi spiegare puoi trovare un montatore medio bravo o scarso però è una cosa che tu puoi delegare in buona parte perché è un lavoro più meccanico più tecnico e meno creativo per cui c'è meno la tua mano e quindi analizzare tutti quelli che sono quegli ambiti in cui tu puoi andare effettivamente a passare un lavoro tecnico la parte tecnica è la più semplice da delegare esatto e quindi con l'assistente tu hai delegato tutta la parte di gestione del tuo tempo per me c'erano tre ambiti principali che erano da un lato la gestione del co-working dall'altro lato c'è la gestione operativa dell'agenzia di comunicazione per cui i rapporti con i clienti mandare le mail rispondere fatture e poi c'era il montaggio dei miei video per cui quelle erano le tre componenti e quello per me è stato una leva pazzesca perché ho preso tre attività che erano gigantesche come succhiatempo non non c'era veramente la leva di quelle che erano le mie capacità e ho preso qualcuno che potesse farle al posto mio formandola chiaramente seguendo eccetera eccetera perché poi non è che deleghi e tendimenti ci devi sempre stare dietro c'è sempre un po' di tempo che ci metti però quelle per me sono state tre attività strategiche e le ho viste facendo il time diary ed effettivamente quanto tempo ti ha tolto cioè quanto tempo ti ha liberato diciamo costruoso lì è stato per dire nella mia carriera come freelance uno dei momenti di maggior salto come crescita wow perché lì proprio il momento in cui sai è come se tu cresci ma corri con un zenetto con tante pietre sopra a un certo punto fai fatica le togli e la tua velocità diventa esponenziale la tua capacità può crescere perché poi sono cose che si sommano tu pensa che questo progetto qui è iniziato da poco e tra un po' di tempo dovrò iniziare a delegare chiaramente la parte tecnica la parte e lì a quel punto avrò più la possibilità di creare di più fare più cose ma sono proprio in questo mi sento appunto per chi ci sta seguendo sento proprio questa sensazione in questo momento di tra un po' bisogna delegare poi lì pensa che hai di base tre strade per delegare bene che è prima quella che abbiamo detto per cui prendere qualcuno che ha meno valore di te in certe aree e quindi tu gli passi del tempo così che tu possa fare più di quelle aree dove c'hai valore la seconda è automatizzare per cui ci sono tanti compiti che possiamo farli fare all'intelligenza artificiale o a tutti gli strumenti possibili cose che non dovremmo fare cioè dieci anni fa quindici anni fa per fare il freelance c'è bisogno di un'agenzia contabile quello che cercava le cose eccetera ora la puoi fare perché abbiamo gli strumenti digitali e la terza cosa poi è delegare a chi è più bravo di te per cui ci sono delle cose su cui tu oggettivamente sei più lento meno bravo meno veloce meno performante e quindi deleghi a uno più bravo non è che si delega soltanto in basso per esempio ci sono delle attività per dire la mia agenzia fa web design e digital marketing e ci sono delle attività super tecniche tipo lo sviluppatore o il digital marketer che fa le google ads o le facebook ads che devi delegarla a qualcuno che è molto più bravo di te perché quindi il suo tempo è la sua competenza e li metti in leva il tuo tempo ma soprattutto sono funzioni che manzioni che comunque sono importantissime per la tua azienda e delegare a un professionista di qualità è la cosa migliore ti permette di scalare scali molto molto più a quel punto di scale digital marketing io devo integrare un po' di cose in questo progetto che sto facendo tra l'altro poi magari ti chiedo anche un parere generale a fine puntata è un progetto molto più grande molte di quelle cose che abbiamo detto all'inizio lì ti devo parlare è molto più grande tra l'altro per mettere diciamo le persone che stanno seguendo ascoltando in linea ti dico io sono in una fase tra la fase di essere il freelance di quella piramide che abbiamo visto essere il freelance e iniziare a delegare per me si stanno mischiando le cose magari magari non so è una piramide a parte no no è normale perché poi le piramidi gli mettiamo ordine eccetera ma essenzialmente è un casino sì 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 per cui sono tutti pezzi di sviluppo professionale che si sovrappongono normalissimo non è regolarissimo come cosa dici normale no è il momento che io ho capito ad esempio che essere un freelance mi piace e quando una volta mi hanno guardato i ragazzi di Monkey Talk non so se li conosci e mi hanno detto ragazzi Gabri tu c'hai la testa da freelance c'hai il mindset da freelance perché io ragionavo era già dagli inizi quando ho iniziato a fare design per gli amici ho tanti amici per cui ho fatto il logo quindi gestivo tutta la parte di ah sai te lo faccio io te lo faccio per questo prezzo mi andavo a cercare il prezzo come si fa non sapevo che cosa fosse pensavo fosse solo lavoro e basta invece era era freelance era freelance in maniera grezza cioè quanto chiedi per questa roba qua eh 50 euro però effettivamente era quella roba lì man mano passando nelle agenzie e nei posti ho capito che no aspetta no 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 lavorare per gli altri eh sì fino a un certo punto eh potevo fare meglio sta cosa qua secondo me non funziona bene come creatività no quindi ho capito ok apro la partita IVA e ah freelance si fa così ho capito ho capito in linea di massima cosa cos'è essere un freelance e adesso sono nel punto in cui sto capendo che posso scalare quindi posso avere la mia professione da freelance come come nel tuo caso e avere un'attività a parte che appunto è il è il gasi e il gasi sarà sia me come freelance sia il brand che parla di comunicazione intervista persone fa tutorial fa robe e quindi c'è una parte di imprenditoria si dice che sto conoscendo quindi che cosa c'è bisogno di quali figure che si ha bisogno per fare una live un fonico e quindi sono un po' miste le cose nella mia piramide a più lati però effettivamente anche grazie a questa conversazione che stiamo avendo sto capendo in quale dove mi trovo però effettivamente come dici te ci sono momenti in cui capisci che puoi fare di più devi scalare devi delegare ed è un po' per riassumere quello che stavamo dicendo l'ho riassunta su me hai detto una cosa verissima ed è che tante volte ti rendi conto che hai la mentalità del freelance per opposizione cioè perché incomincia a fare la strada classica apparentemente che è fare il dipendente e senti che non funziona che non è per te e allora lì ti rendi conto che in realtà sei un freelance a livello di potenziale di mindset ed è un grande classico e abbiamo risposto alla domanda ma sono un freelance oppure no lo capisci facendo cioè se sei in agenzia se sei in agenzia e ti senti un po' ti va stretto e continui a pensare che potresti fare di più e allora se c'è un percebo strategico potresti essere un freelance risposto a questa domanda secca ma un domandone che tutti i freelance o comunque tutti i professionisti si chiedono è anche gli imprenditori come si fa a trovare un cliente oh bella questa bella 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 questa è la domanda da un milione la domanda delle domande effettivamente è un milione se ci vuoi arrivare questa è la domanda delle domande la domanda delle domande allora ci sono tante strategie il principio fondamentale è quello che devi avere un'offerta per questo cliente che è una cosa che tantissimi freelance non hanno l'offerta è la promessa di trasformazione che dicevamo prima per cui è la risposta a perché un cliente dovrebbe venire da te perché dovrebbe sceglierti è pieno di gente è pieno di gente brava perché te e finché non sai rispondere in maniera precisa a questa cosa qui vuol dire che non hai un'offerta e l'offerta è io uso e ci metti il mezzo che stai utilizzando motion graphic musica digital marketing psicologia dentista qualsiasi cosa per portarti a quel risultato che vuoi per cui tu trovi un cliente perché sei il mezzo per una trasformazione e lui ti ritiene tale nel momento in cui hai questa cosa quella devi semplicemente comunicare perfetto e qui si trovano i clienti poi dopo diventa tattica per cui esistono cioè tu hai un cliente perché hai due cose che lavorano per te il branding e il marketing la differenza tra branding e marketing è che il branding converte per cui tu hai qualcuno che entra in contatto con te e dice ok io voglio lavorare con te ok il marketing attrae l'errore che fanno la maggior parte di freelance è quello di incominciare col marketing prima di avere il brand prima di avere l'offerta la promessa per cui attrai 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 e poi uno ti guarda e dicessi ma che fai chi sei cosa fai non so è come dire facciamo volantilaggio e poi arrivi al ristorante ed è chiuso oppure non è buono o c'hai i topazzoni che vengono giù dei lampadari 1000 euro di campagne social e poi effettivamente hai zero non so che cosa faccio non lo so è quello il problema per cui prima parti e entra quella cosa lì e poi dopo le due tecniche principali per acquisire i clienti sono una tecnica di inbound marketing classica e fare contenuti soltanto che è una tecnica lenta ci impieghi fare contenuti prima che dai contenuti arrivino effettivamente dei clienti ce ne passa e tanti freelance pensano ho fatto quattro caroselle su instagram dov'è la fila alla porta e ciao hai voglia è lunga però poi lo puoi si automatizza che è la parte migliore per cui hai contenuti che lavorano per te e ti portano clienti prequalificati senza che tu faccia apparentemente sforzo l'altra tecnica che invece è una tecnica di outbound marketing per cui se tu che vai fuori che è una tecnica che terrorizza i freelance che non lo fanno mai ma è la tecnica più diretta e più potente e più veloce è andare dal tuo cliente ideale e proporti ok quindi diciamo diciamola in parole semplici tu hai detto la prima è content content marketing esatto che è raccontare della tua offerta prima devi avere un'identità un'offerta eccetera poi l'altra è effettivamente andare dal cliente diretto fai la lista delle persone con cui vuoi lavorare e li contatti uno dopo l'altro in maniera poi c'è c'è una strategia per farlo molto personalizzata concisa con un'offerta bobo bobo però è prendi e vai fuori e chiediglielo sì c'è un c'è un dimmi dimmi poi se mi sbaglio c'è una parte molto essenziale per tutti i professionisti imprenditori eccetera che è la comunicazione tu bravissimo comunicatore sai come parlare a chi parlare che cosa vuoi dire e chi è il tuo il tuo pubblico ma questo è importantissimo per il freelance è vitale è vitale è vitale non solo per il freelance per chiunque esattamente per tutti effettivamente i problemi magari possono succedere tu hai clienti sai che cosa puoi offrire al cliente ma se poi comunichi male è finita è tutto finito esatto e lì la comunicazione passa sia per quello che dicevamo prima sia per comunicare il valore che hai e la trasformazione e se non comunichi quello non hai clienti molto semplicemente sia poi per gestire tutto il processo con il cliente cioè un cliente ha bisogno di sentire che lo capisce e quindi se non comunichi adios è finita quindi anche lì tutta la parte di comprensione e quindi di riuscire a costruire una relazione con lui è fondamentale eh sì un altro un altro consiglio pazzesco cioè abbiamo detto delle cose che se uno non se le scrive non se le tatua esatto vediamo gente tatuata con le massime di freelancing ma adesso effettivamente le tue aree operative io adesso sono stato adesso sono stato tanto tempo fa freelance island non è nello stesso posto si è spostata per un periodo ho aperto due sedi per cui c'è stata via serio dove eri venuto tu che era la primissima sedia e poi ne ho aperta una seconda in via farini e per cui per un po' freelance island ha avuto due sedi ah ok ok adesso freelance island sta diventando una community completamente online ah figo yes sempre per il discorso di impatto che ti dicevo figo figo quindi community online interessante un progetto segreto ma possiamo dire no è interessante in cosa consisterà sostanzialmente nel diventare diciamo quello che era un co-working prima in maniera fisica ma digitale per cui un co-working è un posto in cui tu entri e di base hai delle persone che la pensano come te con cui entri in connessione e hai sia una relazione personale umana sia professionale perché la volta che hai bisogno del montatore della persona che ti aiuta eccetera eccetera chiedi e hai di fianco la persona che fa per te wow quindi cioè si potrebbe avere tante piccole aziende dentro un solo posto dentro solo una comunità perché magari collaboro con quello 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 che l'altro wow questo è un progetto ambizioso e sicuramente forte perché effettivamente mettiamo io sono freelance ho un cliente gli volevo offrire del 3D design web effettivamente lo posso fare nella community di freelancer island che effettivamente combacia con il nome era quello che era prima ma è digitale non è che no anche freelance island cioè tu hai tutti i freelancers ah sì sì esatto il naming è proprio per quello esatto bellissimo e fisicamente quindi siete in Farini adesso fisicamente no in realtà freelancer island dopo che ho chiuso la sede di Farini l'ho delegata ai ragazzi di E45 per cui la sede fisica è rimasta quella però il brand freelancer island l'ho portato via proprio per spostarlo su questo progetto ah ok ok e sarà una piattaforma su avrà un suo il sito dove sì ok adesso sulla parte tecnica sto un po' ragionando anche su come gestire al meglio la community su quale piattaforma ma fai un metaverso tutti tutti lavorano dentro in meta esatto magari sarà così sarà un co-working in metaverso un co-working in metaverso bellissimo sì 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 no molto interessante tra l'altro in questo progetto noi vogliamo creare una community che però girerà intorno intorno a più la conoscenza del mondo del visual design e della creatività quindi le persone si potranno connettere un po' allo stesso modo però legato ad avere conoscenza quindi tu vuoi 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 conoscere un 3D artist che lavora nel gaming c'è stata una puntata con lui faremo un evento magari collaboreremo per fare anche un tutorial quindi troverai un po' tante risorse dentro il progetto bellissimo sì 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 tante risorse dentro il progetto mi piace tanto che ci siano figure come te come altri che stanno creando degli ambienti come tra l'altro lo sto facendo anch'io degli ambienti innovativi dove poter uscire un po' dalla dalla normalità dal fare il solito il solito lavoro interessante molto interessante il progetto nuovo di Freelancer Island e molto interessante tutti gli altri progetti che stanno nascendo in digitale conosci altri progetti interessanti che possiamo 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 parlarne che tipo sempre sempre in digitale ti dico adesso sta nascendo questo il gas i podcast i tutorial il tuo online che non vuoi parlarne molto perché non è ancora uscito ma conosci altri progetti interessanti che hai detto wow ho trovato dello spunto da questa cosa qui ma guarda secondo me allora adesso sto facendo un momento locale perché ce ne sono un paio che sì so che ci sono ma non mi vengono in mente subito però stavo facendo un pensiero più ampio ed è che tutti quelli che come te come noi si mettono a far contenuti a costruire sostanzialmente una community polarizzata su un argomento di base stanno portando avanti la stessa missione per cui la cosa bella sarebbe quella di andare a collegarli tutti quanti o a collegarli in maniera tematica perché si portano delle community che sono già formate e se metti non cioè è come se si costruisse diciamo un popolo non prendendo i singoli uno per volta ma unendo le tribù per cui costruisci molto più ampio molto più velocemente e con molta più profondità per cui secondo me tutti quelli che fanno la comunicazione genuina che dicevi tu quando parlavi dell'unicità e vi dicendo ci sono in tutto il marasma che c'è online ora di contenuti copiati gente che dice sempre le stesse cose eccetera c'è gente molto brava che fa questa cosa con super autenticità e quelli secondo me sono tutte quelle community virtuali da poter polarizzare poi ai primi progetti possibili eh sì perché effettivamente i progetti online alcuni sono troppo simili tra loro cioè vedi ti parlo proprio di youtuber che fanno le stesse cose i stessi tutorial le stesse sempre uguale sempre uguale basta quante volte abbiamo visto i 5 consigli per la palette cromatica perfetta basta ragazzi sto capito come fa sti colori cioè è buona fa i colori non c'è l'unicità lì no però invece della gente una piccola percentuale come sempre che invece fa delle cose ganze originali quelli sono quelli che vanno presi esatto come in ogni cosa questo progetto ad esempio non è originalissimo in tutto ti sto facendo questo esempio perché chiarisce quello di cui stiamo parlando il podcast visuale si è visto con Joe Rogan che abbiamo preso spunto da lui l'ha fatto Fedez l'hanno fatto altri in Brasile hanno creato cioè sono youtuber che hanno fatto milioni di iscritti solo con podcast a dire cazzate abbiamo ho preso questo format per qualcosa di più grande per una community di professionisti che si che si collegano tra loro il progetto il gasi che fa vlog ma legato a conoscere gli studi di creatività noi queste cose le faremo effettivamente il punto è che non è importante che sia originale il mezzo è importante che sia autentico il contenuto è quello fatto esatto perché alla fine si possono fare i podcast video i blog i post cioè quelle robe lì sono quelle non è che ci possiamo inventare cose nuove ma il contenuto è quello che conta esatto per cui uno può prendere un format tanti mezzi e poi dopo metterci dentro del contenuto autentico originità e autenticità sono due cose leggermente diversi qualche conta è l'autenticità poi cioè non mi interessava creare un format nuovo di podcast visual cioè il mio interesse era quello di portare il contenuto originale cioè sai è come dire dobbiamo pranzare allora mi invento una posata nuova forchetta coltello e cucchiaio funzionano già perfettamente da secoli non c'è bisogno sì è un mezzo come sempre per cui quel format c'è lo si utilizza e però gli si mette dentro nel piatto un contenuto cibo ganso esattamente esattamente questa è l'idea tra l'altro questo è un progetto top secret che stiamo portando non è più top secret l'abbiamo appena detto adesso l'abbiamo detto all'internet noi ci andremo negli studi a filmare a vedere in retroscena dietro le quinte dei progetti degli studi degli artisti dei freelance per diciamo conoscere conoscere che bello dietro le quinte bellissimo sì 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 sarà un po' sarà un po' questo lo faremo a modo nostro a cazzeggio come deve essere come deve essere però porteremo un po' della nostra autenticità e oh non è che se funzionerà noi lo faremo punto esatto sicuramente c'è chi seguirà c'è chi ci saranno i hater per tutto tu hai dei hater ma sai che sono triste e ancora no ancora no arriveranno e mi fa capire che vuol dire che non ho ancora lavorato abbastanza bene bisogna lavorare finché tu hai qualcuno che ti odia al primo hater dirò eccolo finalmente ce l'ho fatta ho raggiunto ho lavorato bene sì 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 c'è sempre qualcuno che parla male devono arrivare devo prepararmi anche per quello immagino facciamo queste live queste queste registrazioni e arrivano le persone a dire no ma questo Dario non non mi piace perché bene va bene d'accordo argomenta però dici perché guarda quante cose hai detto cioè vabbè speriamo che non ci siano questi commenti vediamo l'importante è che siano contenti quelli a cui ci rivolgiamo esatto esatto tu hai un tuo sito web giusto un tuo sito web e nel sito diciamo parli un po' del tuo lavoro delle tue che cosa c'è dentro il tuo sito nel mio sito c'è allora la mia storia prima di tutto perché uno per scegliere un mentor oppure per sapere con chi ha a che fare ha bisogno di sapere chi è per cui lo possiamo vedere sostanzialmente sì sì e poi dopo eccolo lì e poi dopo c'è quello che faccio che è aiutare freelance a conquistare il mondo per cui lui ci sono consulenza consulenza eccetera eccetera e tra un pochino sarà probabilmente tra quattro settimane incominceranno a esserci un sacco di contenuti gratuiti e di risorse per il freelance ah ok figo adesso sto preparando quella sezione nel mio progetto c'è tutta quella parte lì anche quindi contenuti video per contenuti video tools articoli perché poi c'è tutta la trascrizione dei miei video che vorrei far trascrivere per avere il contenuto con l'how to con il tutorial la visualizzazione dei concetti che adesso su instagram sto facendo delle grafiche che visualizzano dei principi dei concetti perché le immagini come sai benissimo comunicano in maniera molto più veloce delle parole per cui per spiegare un concetto devi far visualizzare se poi uno apprende anche molto meglio molto meglio esatto per cui anche tutta quella parte lì sarà sul sito e poi libri consigliati per equivalenza wow si farei un po' il Chris Du italiano tanto siete simili due cappelloni uguali e due persone con una testa davvero incredibile io quello che dico sempre adesso siamo arrivati un po' verso la fine ma quello che dico sempre è che tu hai visto il progetto adesso hai conosciuto un po' ci sposteremo in un'altra in un'altra postazione ma il microfono e le camere per te saranno sempre sempre aperte quando vorrai condividere un progetto fare una chiacchiera insieme a qualcun altro per me io lo dico sempre è super è super open perché è quello che vogliamo fare cioè se ad esempio porto qui un ragazzo che non so è un designer che ha un po' la stessa idea simile tu dici lo voglio conoscere ti metto la sedia qua di fianco lo intervistiamo insieme buonga meraviglia questa è un po' il mood il nostro mood un po' tranquillo è un po' vorremmo portare il contenuto originale grande quindi qualsiasi qualsiasi volta tu vorrai tornare vedrai Gabri mi piace questo qui tu vieni super e troverai sempre sempre open vuoi condividere qualcosa hai qualcosa da dire l'ultima freelance conquistate il mondo conquistate il mondo è fatta apposta per noi si 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 poi a noi noi ci trovate in tutte le piattaforme di podcast a Dario Dario su Instagram Instagram e YouTube Instagram e YouTube anche podcast tu hai un podcast? i miei video ah ok ok senza video perfetto pubblichi direttamente così quindi Dario potete trovare se scrivete Dario Albini trovate spero di se il CEO è fatto abbastanza bene quindi speriamo che ti trovi però trovate anche il link in descrizione di Dario e tutti i nostri link per ascoltarci vederci entrare in contatto con noi e entrare in contatto con Dario quindi link qui sotto al video mettete like perché ci date una mano e YouTube capisce che è un contenuto di qualità esatto è un contenuto di qualità quindi se lo fate gratis ci date una mano ma soprattutto se vi piace mi piace fate è un gesto esattamente esattamente è stato davvero un piacere e come ti ho detto le porte sono aperte grazie mille queste porte o altre che saranno e niente adesso faremo una chiacchiera in off grazie ragazzi ci vediamo alla prossima sigla ciao 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 grazie a tutti